La morte di un bambino ha il potere di portare a un'immediata mobilitazione dei cuori che si uniscono e diventano un solo cuore. Basta tenere il polso sulla città, c'è la stessa pulsazione del miracolo suscitato da un dolore innocente. L'Aquila piange il piccolo Tommaso non con lacrime cupe e disperate ma un dolore universale. Le parole delle cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell'Aquila, nel corso dei funerali del piccolo Tommaso spiegano i sentimenti di dolore, commozione e incredulità, innescati nel profondo della comunità aquilana e abruzzese da una tragedia assurda. Nella basilica di Collemaggio, luogo simbolo dell'Aquila, sono stati in almeno 2500 a dare l'ultimo saluto al piccolo Tommaso, ucciso da una passate piombata nell'asilo di Pile, frazione delle capoluogo regionale. Insieme, come a rappresentare un territorio che si è stretto intorno alla famiglia del piccolo, in particolare mamma e papà, composti ma impietriti dal dolore. All'esterno della basilica di Collemaggio, all'arrivo della bara bianca del bimbo di quattro anni, un silenzio irreale, lacrime, palloncini bianchi e blu coi nomi dei compagni e un grande cuore gonfiato con su scritto Tommaso.